Ciao a tutti ed eccomi qua in Animal Crossing, welcome a Meebo e siamo al 24, buona vigilia a tutti e io sto registrando diciamo al qualche giorno prima però faccio come se fosse adesso alle 9 a registrare quindi andiamo, perché qui Fuffi mi dice che è il giorno dei giocattoli oh qui ci sono dei fiori eh, ci sono dei fiori da prendere c'è da prendere, da naffiare, oh allora salve controlliamo che regalo c'è, ritira il regalo, legge la letta di mamma, auguri buon Natale augurissimi, augurissimi, grazie, grazie, apri, apri un maglione folco, indossiamolo vabbè, ma però può mettere, cioè l'albero di Natale, l'albero di Natale, dai andiamo cioè non posso abbandonare l'albero di Natale per un bellissimo maglione però l'albero di Natale, l'albero di Natale, cioè capperuccio allora quando ho finito di fare il giro di tutte le cose che ho in tasca posso iniziare ad annaffiare va bene, qui senti che musichina, siamo proprio in tema bah eh, uh c'è anche la signora delle rape perché effettivamente è domenica vai oh annaffio anche qui sentiamo un po' a giro cosa ci dicono i paesani e quindi diamo intanto anche la bellissima pala targento niente, te non sei il sasso di soldi un ucciolino qui, che cosa ci sta dicendo? che cosa ci vuole dire? a parte fare le buche qui eh, leggiamo, vai con chi passare tra le vostre vacanze speriamo che questo sia un periodo felice per tutti qui in città ma speriamo da tutte le parti un po' di felicità ci vuole allora qua no nemmeno lui cosa vedo nei miei occhi? le palle di neve dov'è la seconda? andiamo a cercare la seconda niente, non sa nemmeno se dov'è la palla cosa vedo nei miei occhi? un altro fossile allora, un'altra palla di neve un'altra palla di neve qui no io continuo a ostinarmi a tenere le uova di Pasqua lì Polpolo non c'è anche perché è domenica io non ho mai visto domenica o forse sì non mi ricordo non ho la rimembranza di Polpolo la domenica allora andiamo giù anche lo sternoso allora in qua palle di neve ecco c'era una trappola nascosta dentro l'albero che non abbiamo potuto vedere perché l'ha nascosta bene e ci siamo finiti che ha titolato dentro? te no no ok te niente non era lui erbaccia poi qua te erbaccia guarda accattiamo anche questo vediamo intanto giro un po' di robette questo qua qui ho praticamente ho fatto nascere un bambueto oh vedi vai vediamo vediamo questo germo di bambù vediamo quanto spazio ok vale ma ancora non ho visto la seconda quella di neve la ritappa poi questo nemmeno lui oh ma per dindrindina ma non è possibile il sasso dei soldini dove stellina ah è fossile fammi non tirare le tasche eh ho solo un posto libero vai verbaccia vediamo se ci siamo facciamo anche le pulizie aspetta aspetta vada un po' c'è Gigi chiacchieriamo Gigi ah no è Gino ciao Gino sei uno che piace fare le cose a modo suo eh si si vede proprio si no niente non ci ha detto nulla del Natale il sasso l'avevo provato e non c'era niente ma questa casa vi è bobo no bobo è una scuola greca pensavo fosse uno nuovo invece no allora qua erbaccia 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 oh la miseria ragazzi oh ma eccolo qua bene inizia inizia vai vai occhio perché se batte nell'albero si rompe là vai dobbiamo solamente adesso fare una cosa semplicissima se vuoi passare lì dai vai l'albero perché l'albero se si batte all'albero si rompe vai grande ora il ponte ridiventa piccolina oh che miseria vai 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 con la pancia con le mani dai 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 guarda un po' se si rompe ecco si è rotta per dire in vera niente difficoltà ponte pervenuta ok e allora niente aspettiamo che respauli un'altra palla di neve per fare un bel pupazione oh vieni va yes però non ho trovato il sesso ai sordini oh possibile non abbia trovato il sesso ai sordini eh santa pazienza allora quale sasso mi mancherà questo va bene ora vi faccio tutto il giro sì ok sì ho anche questo ottimo eccolo due perché poi so anche con la testa su per ecco che pareva per non vedere l'angolo è finito posti e qui c'era l'erbaccia poi sì volevo strappare l'erbaccia lascia qui lascia pure lì va tranquilla vai vai ok allora abbiamo trovato il sesso ai soldi ora sono pace con me stessa e me ne vado qua faccio una sola palla di neve posso via fa mezzo pupazzo butta a terra e metti a terra anche questo poi stavo pensando verretto nero vabbè queste me le vendo tutte ma sì vai andiamo a vendere ma questa cos'era armadio palloncini vendiamo pure quello via quali fuori collezione di fossili così abbandonati se li prende Artù magari così prende anche lui un po' di soldini oh salve signorel perché ha tutto a posto come butta eh buon Natale compra le mie cose vai questo 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 stop vai bene esagerata troppo asciugati il sudore per questa fateace ad averci dato tutti questi soldi e andiamo oh quasi quasi dopo aver fatto questa grande selezione ricerca del sasso dei soldini e anche aver pulito la insomma la città dall'erbaccio sì ogni tanto rispavano come mai rispavano l'erbaccio e non rispavano le palle di neve eh cioè accappano quanto ci vuole oh vediamo a proposito iniziativa simile di fiori eh iniziativa del tonno ah vedre lo pesco iniziativa di carta da parare iniziativa isola tropicale va bene quindi oggi non faccio niente magari faccio il classico salto sull'isola tropicale però allora però voglio fare una cosa ma ho visto solamente Gino a giro cioè c'è solamente Gino a giro bah non c'è nessun altro allora bah sembra strano Gino e ci si vede solo noi vai parliamoci dici Gino ciao il tempo non è poi così bello ma io mi sento più che bene qui qua qua qui ti serve qualcosa? hai qualche novità? nella la signora nella nella la signora delle rapi in città sapevi che il prezzo delle rapi cambia di giorno? sì bisogna aspettare il momento giusto per vendere ricicla e ricicla ricicla e ricrea eh e farei e fare molti soldini potresti così investire in rapi? sì va bene no grazie non ci interessa no io ho le rapi smesso mi garba nemmeno su amare allora oh sì facciamo un po' di pulizia che ce ne sono troppi così rompo anche l'accetta oh avvolto slush ho tagliato un po' d'aria vai rimarrà solo uno vai a posto prendi la paletta è rimasta anche lì su cioè intera la prossima spaccata sarebbe andare in rovina secondo me l'accetta vai ho ripulito la zona dal bambù festante sto bambù tremendo e poi vediamoci anche queste là che fatica vai perfetto Alex perfetto grande ma cosa ho già trovato il sasso dei soldini è più forte di me vedo un sasso e devo tirare una palata per vedere se ci sono i soldini ma l'ho già trovato allora allora oh andiamo un attimino a vedere oggi il vestitini nuovi ci sono che cosa ci sono che cosa hanno portato questa alta moda sto facendo scappare tutti i pesci sempre la stessa palla di prima ecco l'altra mi sono spawnata vediamo se magari si va di qua e poi si rientra e si ricrea vai riappoggio qua ecco riappoggio qua e poi sono riuscita sì siamo sempre noi vai si va di là è il giochino nuovo passa di qua attraversa il treno la stazione attraversa il treno è dura allora andiamo da Marco e Mirko andiamo a botta salve signor Marco salve salve allora guarda vabbè facciamo sì guarda fiori mi ripiglio guai me la sento mi metto due vai va bene fai fatto tantastelline si possono anche dare poi sempre rosa gialla tantastellina no va crepi la valizia prendiamone due e qui finisce tutto le nostre trattative sono finite felice che lo rindo che felice rinvento i nomi come sempre vabbè lo stereo vai ciao se la natalizia è già finita ma tanto io l'avevo già fatta tutta ciao che bazzico ci sono sempre i stessi occhi le scarpe ci sono sempre qui c'è il frac non ci interessa ma gli acquadri uuuh ci sono vabbè sono sempre in tema natalizia e va bene ma no rimango così qui c'è quello della cosa è di Cleopatra lo stile egizio no no va bene così rimango così grazie grazie signora griffa ci si vede più la prossima volta più tardi no la prossima volta facciamola ok ma io continuo a comprare i fertilizzanti perché qui in un'eserci conteggio non si sa quanto i fertilizzanti sono e quindi non so quando mi potrò accedere all'accetta d'oro eh va bene mille vabbè a compiaci ci abbiamo una baraccata di quattrini quindi non ci fa paura mille e seicento non ci fa paura non ci fa si onda biscottini lascia fa vai andiamo grazie visita arrivederci arrivederci Marco allora quasi quasi vado anche da bice che fate nei primi ah no è sempre chiuso perché sono le nove però posso andare a estinguere un attimino il debito che ho con quel quello strozzino di himnuk ci porta via sempre un sacco di soldini ah si restituisce il prestito mamma mia 463 mila stelli mi voglio 35 mila stelline così abbiamo 428 che è sempre alto ci piglia gli svenimenti però vabbè 428 è tanto ci pensiamo ci pensiamo allora ritorniamo in paese eccoci eccoci alla stazione allora stavo quasi quasi pensando attenzio ah no a proposito c'ho da piantafiori ma che siamo manati mi stavo per dimenticare metti a terra pianta era una rosa eh vabbè tulipano pianta che tulipano no pianta che tulipano la perfetto ecco e si è attivata l'azione l'avevo detto abbiamo visto alla fine l'avevo detto no invece una l'ho fatta vieni vieni da noi piccolo punto di coupon civico grazie per questo è terminale civico ma prego siamo venuti a posto credevi che non si facesse invece niente abbiamo fatto anche qui un coupon sarebbe da rivendicare dei coupon in soldini però va bene allora andiamo eh si qua qua andiamo a vedere c'è un campeggio infatti un giro a parabola questo camper non ho rimembrezza di chi sia questo camper ah di savanna muro perziano tapeto perziano si fa affari savanna niente niente è stato bello siamo venuti a salutarti savanna ma non si fa affari niente non è lo stile che cerco andiamo c'è il termos è un pezzo di coscio che stava vendendo ma prende così i cosci così al vento che cose strane allora ma ho visto e questo un fossile me l'ha sfuggito oh per diridina me l'ha sfuggito un fossile ah un'altra stellina un altro quanti fossero ho trovato ci pensare un ci pensare andiamo allora andiamo io ancora non ho visto l'altra palla di neve che ha peruccio ce la fanno soffrire questo respawn della palla di neve vediamo ancora di qua poi in zoom fa il perimetro perfetto qui non c'è non c'è l'ervaccia ma la levo la qua su giù niente io l'ho vista c'è un grillo talpa lo sento ma l'ho già trovato quindi non ci interessa bene allora niente è giunto il momento dell'isola eh lo so eh sì dove sto andando è qua il pontile giro ma sta dappertutto ci riparro con il giro e l'Alex mi sembri una persona molto corretta mi piaci qua 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 qui qui qua dove gli ho messo 3000 di qui qua qua ti serve qualcosa no qui qua è un'altra cosa è qua qua raccontami qualcosa nel giorno dei giocattoli ma Babbo Natale non si stanchi ad andare in giro a portare i gali di tutti eh eh no se no non lo farebbe andiamo bene questa domanda amletica del nostro Gino la salutiamo così e andiamo dal remo e si parte ci vediamo sull'isola chissà se c'è qualcuno chissà se la vediamo se c'è qualcuno uh c'è Venezia Giade Felicity Mario vediamo un po' sì e poi vediamo un po' ok salutiamo ciao a tutti a tutti voi uh lui proprio vestito a Link di Zelda wow che bei capelli anche oh non dico di te sono passata qui solo per un saluto veloce scusate voglio andare a vedere che piante ci sono hm di cocchi ci sono anche scaravecce no non ci sono scaravecce sì ci sarebbero scaraveoli e vabbè ci sarebbe anche un altro qui quasi quasi voglio noleggiare dai allora questo che mi piglio di scaravei e poi scapo via e anche a 14 ma sì ma qualsiasi è bella soprattutto a 14 il motorino wow ole ho preso un colonottero cervo perfetto e c'è quest'altro perfetto silenzio oh no bam 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 no bene solo uno che la fare fa chiappale alle presa ebbene dopo che eh sta dicendo le cose giuste ma io al tempo al tempo bravi ragazzi ottimi discorsi io ora poso questo no dove vai ma che fai che cosa stai facendo posa qui la roba tac tac chiude raga vi saluto sì sta dicendo ha detto delle cose giuste prima Mario ora queste non le ho lette e scappo via oh ho scritto ciao che con la data finale ma va bene torno a casa certo e vai benissimo è anche il salto dell'isola eh che forza benissimo a questo punto io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto per quanto mettete un mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto e per finire buona vigilia a tutti e buon Natale un bacione è piaciuto è piaciuto Grazie a tutti.